Allora, buonasera ragazzi, video per parlare della situazione Federico Gatti che ieri ha scelto ufficialmente il suo numero di maglia, numero 15, che dopo tre anni di vacanza ritrova quindi un proprietario e dunque il centrale ex Frosinone raccoglierà un'eredità molto molto importante, non semplice perché Barzagli è stato uno dei difensori italiani più importanti della scorsa decade. In otto anni e mezzo di Juve, otto scudetti e altri trofei purtroppo dico io solo italiani perché meritava sicuramente qualcosa in più a mio parere e dunque possiamo dire che al 100% ormai neanche al 99,9% rimarrà a disposizione di Massimiliano Allegri, non andrà in prestito, non rientrerà in trattative per agevolare l'arrivo di qualche altro giocatore e rimarrà a disposizione di Allegri 100%. Ho dedicato a lui un video a gennaio in cui ho parlato della sua storia, uno speciale di Giovani Bianconeri, la rubrica che ho portato avanti sul Vecchio Canale, in cui ho parlato della sua storia, lui è un muratore che ha fatto tanti tanti sacrifici, ha superato mille difficoltà, ha scalato intanto sei serie in sei anni, è passato dalla prima categoria in eccellenza in sei anni e poi è un difensore, è un giocatore che si è allenato tante volte anche di sera, la sera anche tardi per trasformare la sua passione in un lavoro praticamente no? Allora, e ci è riuscito perché è arrivato, come ripeto, dalla prima categoria dell'eccellenza, a una squadra che è un top club in Italia ed è anche uno dei più famosi in Europa, uno dei club che gioca anche la Champions League, quindi è arrivato al massimo in Italia e anche tra i maggiori club in Europa. Allora, è un difensore di cui io ho visto poco e niente in Serie B, però ho visto spezzoni contro l'Inghilterra in Nations League, non ho avuto la possibilità di vederla tutta quella partita, ho visto qualcosina e devo dire che Federico Gatti mi ha veramente impressionato, perché è uno che usa molto bene il fisico, uno che è sicuro di sé, non ha paura, ha contenuto uno come Tammy Abram che è un difensore molto molto fisico, uno che usa il fisico molto bene e che ne fa la sua principale arma e non gli ha fatto praticamente mai vedere il pallone, se proprio possiamo dire, è stato attaccato su di lui come un francobollo sulla busta per 90 minuti. Tra l'altro è anche uno che ha discrete doti di impostazione, classe 98, quindi 24 anni, compiuto il 24 giugno, ed è anche secondo me l'erede ideale di Chiellini, perché tu Chiellini l'hai preso nel 2004-2005 dal Livorno e te lo sei cresciuto in casa per gli anni successivi, c'è da dire che lui era anche più giovane. Gatti arriva a 24 anni alla Juventus dal Frosinone ed è un centrale che nei prossimi 3, 4, 5 anni può dire assolutamente la sua in Serie A e può diventare uno dei più forti in Serie A, assolutamente, senza problemi, anche perché lui, come ripeto, le caratteristiche ce l'ha tutte. Quindi, fatto questo discorso, secondo me che ruolo potrebbe ricoprire in questa Juventus? Allora, innanzitutto abbiamo detto che rimane, quindi ad oggi, 17 luglio 2022, ad oggi, noi i centrali difensivi che abbiamo sono quattro, sono Bonucci, Delict, Lugani e Gatti. Gatti mi sembra che sia proprio Mancino, quindi l'unico Mancino che abbiamo si chiama Federico Gatti. Poi possiamo anche adattare Danilo se proprio vogliamo a centrale, ma io lo metterei più in un contesto di difesa 3. E, apro una piccola parentesi, se avessimo tenuto Cambiaso e avessimo comprato anche Molina, che adesso sembra molto molto vicino all'Atletico Madrid, ci siamo fatti sfuggire pure lui, molto probabilmente l'anno prossimo ci sarebbero stati degli sprazzi di difesa 3, perché Molina e Cambiaso sono due che fanno gli esterni a tutta fascia, sono più, diciamo, esterni d'attacco che non difensivi, no? Poi in particolar modo Molina, che è uno che sta prevalentemente in attacco che in difesa, no? E quindi Danilo si sarebbe potuto adattare a fare il centrale, sia in un 3-5-2, in un 3-4-1-2, 3-4-2-1, 3-4-3, insomma moduli con la difesa a 3, no? Ok? Vabbè. Gatti, che ruolo potrebbe ricoprire? Gatti è uno molto da difesa a 4, secondo me, uno molto da difesa a 4 che verosimilmente sarà anche quella che adotterà Allegri la prossima stagione, 4-3-3, io credo, io credo, con Bonucci e, ad oggi dico Delict, ma chiaramente chi sostituirà Delict in caso di cessione al Bayern Monaco, sicuramente non Rugani, sicuramente non Rugani il titolare. Facciamo, Bonucci o, non lo so, Pau Torres, Bremer, Gabriel, chi sostituirà Delict, insomma, no? Gatti, naturalmente, farebbe la seconda linea, farebbe la seconda linea, ma sarebbe più convenevole che facesse la riserva di Bonucci o la riserva di Delict o di chi ne farà le veci, possiamo dire. Secondo me sarebbe più convenevole che facesse la riserva di Delict o di chi lo sostituirà, perché è un centrale molto fisico e Allegri per sostituire proprio Delict, e anche il Delict stesso è un difensore più di marcatura, più di, ecco, un difensore che sta attaccato all'uomo, uno che non temporeggia, uno che entra sull'uomo, uno a cui piace il contrasto, a cui piace il duello, ok? E quindi Federico Gatti, avendo queste caratteristiche, è uno che senza dubbio ricoprerà quel ruolo, perché Allegri in difesa l'anno prossimo avrà uno che saprà impostare, ed è bravo anche a marcare, ma più a temporeggiare, tipo Bonucci, e poi avrà uno come, io spero vivamente rimanga Delict, ma se non sarà così, un verosimilmente, secondo le richieste d'Allegri, Gabriel o Bremer, che sono due mastini difensivi, più di marcatura, più di duello, e Gatti andrà a ricoprire proprio il ruolo di riserva di questo mastino, no? Di questo mastino difensivo, perché Gatti, come abbiamo visto in Nazionale e anche in Serie B, io ripeto, ho visto poco, ma chi l'ha visto potrà confermare, tra l'altro è uno molto bravo anche sui calci piazzati, e questo l'abbiamo visto, andrà a ricoprire il ruolo di riserva del difensore centrale che andrà a sostituire Delict o di Delict stesso, perché proprio per qualità fisica e per qualità tecnica. Poi, tra l'altro, anche lui, come Bonucci, ha una discreta dote di impostazione, è sinistro, quindi avresti anche un centrale in più in fase di impostazione, se devi impostare, perché non c'è solo Bonucci, ma ci sarebbe anche Gatti, e sarebbe il mix ideale, diciamo, tra Bremer, Gabriel e Pau Torres, perché fisico, marcatura, stretta anche, però anche bravo coi piedi, anche bravo a partire dal basso, quindi sarebbe il connubio ideale per la difesa bianconera. Questo è il quanto, non so cosa ne pensate voi, questo è il mio pensiero, e speriamo che Gatti riesca a trovarsi il suo spazio, a ritagliarsi i suoi minuti, perché è un giocatore che se lo merita anche per tutti i sacrifici che ha fatto in questi anni. Ciao ragazzi!